Buongiorno ragazze, buongiorno a tutti, sono contentissima di poter tornare a girare video, di avere circa una decina di minuti di tempo per girare questo video ma è lo stesso giorno in cui sto facendo un vlog, per cui mi vedete vestita così anche nel vlog, mi prude il naso vuol dire che arrivano soldi? Ma penso proprio di no, dicono che quando prude il naso arrivano soldi, no comunque, visto che ho ritrovato un po' la serenità, vi faccio questo video sui prodotti mangerecci terminati e io non mi capacito di come abbiamo fatto a mangiare tutta questa roba sono per la maggior parte schifezze, quindi questo non è un video educativo, anzi diseducativo e io penso che dalla settimana prossima mi metterò veramente a dieta già da questa settimana comincerò magari a seguire un po' la dieta, però dalla settimana prossima proprio dieta stecca perché poi tra meno di un mese vado in ferie e io veramente sono stanca di non sentirmi bene con me stessa ogni anno mi ripeto sempre la solita cosa, quest'anno dimagrirò, quest'anno mi vedrò bene in costume quest'anno non sarà più come l'anno scorso, è da 20 anni che mi ripeto questa cosa perché era da quando avevo 13 anni che non sto bene con me stessa l'unico anno in cui sono riuscita a dimagrire e mi sentivo bene con me stessa ero così concentrata sulla dieta e sul dimagrire che non mi sono goduta l'estate quindi non sono mai stata equilibrata nell'alimentazione speriamo quest'anno di riuscire a trovare un po' di serenità passiamo subito ai prodotti terminati perché comunque adesso sono schifezze però ogni tanto ci possono stare e ve le voglio consigliare allora vi voglio consigliare queste girelle ai frutti rossi sono piccoline però sono molto molto buone e non contengono neanche particolari schifezze quindi consigliate poi vi consiglio anche questi gelati i nui, eccoli qua questi soprattutto a cioccolato fondente e i mirtilli si sono mirtilli dei paesi nordici ragazzi hanno un sapore buonissimo anche questi non contengono troppe schifezze anche se comunque non è detto che se una cosa non contiene schifezze non faccia ingrassare poi oreo, questi ciocco brownie mi sono piaciuti tanto li ho mangiati più io che mio marito questi qua mio marito ne avrà mangiati due io il resto li ho mangiati tutti perché mi piacevano di più piacciono di più a me buoni non li ricomprerò perché comunque sono pieni di schifezze ma ho avuto piacere di provarli poi abbiamo terminato questo polpi con patate che vendono da Lidl costano molto meno rispetto a quelli di Findus sono delle ottime porzioni di pesce già pronto basta solo scaldarlo in padella poi questo riso per insalate riso grazia perché adesso comincia la stagione delle insalate di riso questo qua è economico, costa poco e va benissimo per le insalate di riso lo potete trovare su qualsiasi supermercato il condiriso della peperlizia questo qua è uno dei miei condiriso preferito semplice, peperlizia, buono io però nell'insalata di riso aggiungo sempre altre cose perché non mi piace solo il condiriso ma voglio metterci anche altre cose poi abbiamo terminato questi grisby questi nella versione estiva e fresh love eccoli qua buoni però dopo un po' stancano sinceramente non li ricomprerei sono buonissimi, veramente mi sono piaciuti tanto però da mangiare una volta e poi basta e poi ho provato questo buonissimo gelatino non mordere della san montana però è una novità vedete c'è scritto novità ed è al cocco, il cioccolato al latte ragazze è ancora più buono del bounty sembra molto il bounty come sapore è troppo troppo buono io ve lo consiglio io adoro andare al mare e prendere il gelatino se vado al mare il gelatino è d'obbligo ottimo poi abbiamo finito queste fette biscottate della Colussi ecco questo forse l'unica cosa sana che c'è in questa lista o una delle poche sane che ci sono in questo video le fette biscottate della Colussi sono ottime hanno un buon rapporto qualità prezzo poi i McVitistin questi qua sono piaciuti sia a me che a mio marito quindi ce li siamo divorati e poi anche questi questi biscottini qua al cioccolato rosa questi però erano troppo dolci si sentiva troppo il burro quindi buoni però un po' stomachevoli poi ho finito questa buonissima cedrata che ho trovato da Intrespar si chiama le autentiche cedrata di diamante con il fuso di cedro della riviera dei cedri eccolo qua buonissima questa cedrata se la ritrovo o se la trovate anche voi compratela perché ne vale la pena poi altro gelatino novità è il Magnum Choco Brownie anche questa è una cosa favolosa ricorda molto la Kinder Delice o la torta Sacker è buonissimo l'unica cosa è che non ha il bastoncino quindi voi lo aprite lo prendete in mano e vi si scioglie tutta la cioccolata mentre lo mangiate questa non è una cosa bella però il gusto è top quindi consigliato consigliato e come consigliato questi Magnum White Chocolate and Cookie questi qua sono i gelati i Magnum più buoni che io abbia mai mangiato i Magnum del momento questo hanno fatto un'invenzione spaziale perché il cioccolato bianco di solito è molto dolce con questo sapore stucchevole invece loro cosa hanno fatto ci hanno messo i biscottini e poi dentro non c'è solo la panna ci hanno messo anche il cioccolato dentro e quindi va a smorzare il dolce del cioccolato bianco fantastici adoro adoro io e mio marito proprio siamo rimasti stupiti da questi Magnum poi abbiamo finito anche questi bauli e 5 cereali queste trecine sono molto simili alle trecine integrali di mulino bianco buone potrei ricomprarle ecco non ci hanno fatto impazzire ma sono buone poi invece io ho amato amato alla follia questi cornetti della misura questi li ho amati tantissimo li ho dorati e sono dei cornetti con arancia carota e zenzero sono troppo troppo buoni io vi straconsiglio di comprarli questi non hanno ingredienti brutti poi abbiamo terminato i cracker integrali di mulino bianco li ho terminati io perché a mio marito non sono piaciuti a me invece si e li ricomprerò sono buoni costano poco e sono sani poi abbiamo terminato questa bibita che è la marca player ed è un mojito praticamente vendono tutte queste bottigliette tipo mojito rum e soda tutti dei cocktail ovviamente un cocktail preso al bar è tutta un'altra cosa un cocktail preso in un locale è tutta un'altra cosa queste sono solo bibite con aromi di dubbia provenienza quindi non fanno molto bene però in mancanza d'altro ogni tanto sia a casa al pomeriggio non si ha voglia di uscire così si ha voglia di una bibita fresca questi comunque possono andare bene non sono imbevibili però sappiate che un cocktail è tutta un'altra cosa poi ho terminato questi oro eccoli qua col cioccolato fondente molto buoni mi sono piaciuti li ho mangiati sia io che mio marito e li avete già visti insomma quindi non mi dilungo troppo e poi altri tre prodotti allora ho terminato queste due le gomme della tic tac eccole qua che non comprerò mai più perché sono un po' spiziose però stancano subito perché sono aspre sono asprissime e mio marito ha detto che si stava belenando mangiando una di queste ed ha ragione perché effettivamente poi dentro hanno un sacco di schifezze vedo no le ho comprate ho avuto piacere di mangiarle però sinceramente non le andrei a ricomprare e neanche ve le consiglio e ultima cosa questa pancetta della Montorsi molto buona questa pancetta della Montorsi ideale per la carbonara bene ragazze io ripongo tutto in un'altra borsa anzi devo farla differenziata mi devo sbrigare perché devo andare al lavoro vediamo che ora sono perfetto sono in orario tra 5 minuti parto io vi saluto e niente vi ripeto questo non è un video educativo non si devono mangiare quasi tutte le cose che vi ho mostrato cercate di stare a dieta di mangiare si schifezze ma quando sapete che dovete smaltire tanto ovvero quando sapete che dovete fare un sacco di movimento e che quindi una schifezzina ci può stare io spero di riuscire a raggiungere il mio obiettivo che non è tanto la perdita di peso ma tanto il perdere cellulite di tensione idrica sulle gambe e anche l'alimentazione conta oltre all'allenamento io vi saluto vi mando un bacione e chissà che dopo 20 anni riesca a convincermi di mettercela tutta e fare un po' di movimento un bacione a tutti e grazie e grazie Grazie a tutti.